Cantina Frentana a Rocca San Giovanni che apre le porte ai Wine Lovers di Cantine Aperte 2019, visite guidate, degustazioni, una mostra di pittura e ancora la possibilità di cenare o pranzare nell'elegante sala esperenziale in cima alla Torre Vinaria. C'è anche lo street food con le migliori produzioni locali, animazione per bambini e tanta musica live. Cantina Frentana risponde così presente all'edizione numero 27 di Cantine Aperte, la rassegna promossa dal Movimento Turismo del Vino in programma nel weekend. Ricco è davvero per tutti il programma della rassegna enologica più longeva d'Italia nell'azienda cooperativa di Rocca San Giovanni che ha festeggiato nel 2018 sei decenni dalla sua fondazione. Originale brindisi con arte, mostra personale del pittore e scultore marchigiano Roberto Spaccapaniccia, interprete del movimento artistico del percezionismo con dieci tele e tre sculture in legno ispirate alla vita e alla natura e dal richiamo surreale. E poi visite guidate della cantina e ovvia degustazione delle migliori produzioni aziendali. Il presidente Carlo Romanelli. La soddisfazione ne abbiamo avuto tante e ne vorremmo ancora altrettanto perché lavoriamo per raggiungere degli obiettivi ottimali che promuove il territorio, i nostri prodotti, comunicare nel mondo quello che siamo che è molto importante per noi e per il territorio che è importantissimo. Una grande occasione per farvi scoprire proprio Cantine Aperte. Sicuramente noi abbiamo cominciato a fare Cantine Aperte 25 anni fa da quando sono presidente e abbiamo cercato sempre di fare il meglio per farci conoscere e di promuovere anche culturalmente per fare delle manifestazioni. Quest'anno praticamente stiamo facendo una mostra sotto, forse avete visto, che è molto soddisfacente. Unire cultura ed economia è molto importante e continueremo sempre su questa strada qua. Cantine Aperte è anche la grande occasione per raccontare il grande lavoro degli oltre 400 soci conferitori e di tutti coloro che in cantina lavorano ogni giorno. Un evento che svela tesori sconosciuti e peculiarità del territorio con le ultime novità presentate in anteprima. Il vicepresidente Cantina Frentana, Giuseppe Alfino. La novità quest'anno, anzi più che quest'anno in questi giorni, è l'uscita in vendita, in commercio di due bottiglie di vino frizzante. Una bottiglia di bianco che è stata realizzata con vitigno di Passerina. Invece la bottiglia di rosso, che poi rosso non è, ma è rosato, è stata realizzata con il cerasuolo rosato, quindi di Montepulciano. Ed è stato per noi un traguardo a queste nostre ambizioni di crescita sotto l'aspetto qualitativo, ma anche sotto l'aspetto dell'offerta ai nostri clienti, alla nostra clientela, di vini nuovi e di vini attuali.